Sindaco Maurizio Brucchi, oggi in Consiglio Comunale verrà presentato il primo bilancio di previsione della Giunta a Punto Brucchi. Uno dei principali punti del bilancio presentati riguarda la tutela delle fasce sociali meno abbienti. Sì, abbiamo voluto tenere in considerazione il momento particolare, la crisi congiunturale che c'è in Italia e quindi in qualche modo abbiamo voluto impostare un bilancio che tenga in considerazione questa situazione. Quindi attenzione al sociale, attenzione alle scuole, attenzione alle fasce più deboli in un momento particolare che il nostro territorio, così come tutta la nostra nazione, sta vivendo. C'è solamente una piccola ingesività che riguarda l'applicazione della TIA che poi è trasformata in Tarsu e che comunque va proprio a incidere sulle famiglie in meno ambienti. Però certo come politica c'è ben poco se pensiamo che sono stati effettuati degli aumenti per la mensa e da questi aumenti non si è tenuto conto effettivamente dei redditi delle singole famiglie e quindi è stato reso proporzionale ai redditi delle famiglie. Questo dimostra che non vi è assolutamente un'equità sociale vera. Come mai è stato introdotto un aumento di 50 centesimi sulla tassa dei buoni pasto nelle mense scolastiche? Insomma, io vorrei dire due cose a tal proposito. Innanzitutto che le nostre mense hanno la certificazione ISA 9001, sono il fiore all'occhiello di questa amministrazione ma di tutto il territorio. Qualche giorno fa è uscita una classifica nazionale relativamente alle scuole e noi siamo fra i primi posti. Siamo gli unici asili dove si cucina ancora all'interno degli asili con delle cuoche e quindi si preparano i pasti pronti. Quindi credo che 50 centesimi sia veramente un giusto adeguamento tenendo conto che ora da cinque anni non si aumentavano i buoni pasto. Abbiamo ritoccato veramente in maniera, e tra l'altro a partire da settembre, quindi nemmeno per tutto l'anno, veramente in maniera non significativa i buoni pasto. Ma è l'unica cosa che abbiamo fatto. Riappare anche la TIA che tornerà dalla TEM alle casse del Comune per un valore di circa 10 milioni di euro. Come mai questa decisione? Ma non è una decisione nostra che è conseguente a quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito questo. Per cui, insomma, è una situazione di cui abbiamo preso atto. Anche qui una particolare attenzione alle fasce che comunque necessano di maggior aiuto. Guardi, dal tempo che noi diciamo che la scelta della TIA è una scelta sbagliata, fatta dal Comune nella precedente amministrazione e portata avanti da questa, perché la TIA non aumenta le tasse del contribuente se vi è una differenziata altissima. Siccome noi abbiamo iniziato oggi a fare la differenziata, non ce l'abbiamo altissima, chiaramente è una grande, incide moltissimo sulle tasche del contribuente. L'incremento del bilancio riguarderà anche l'introduzione della tassa pari a 100 euro l'anno sui passi carri. Ma guardi, io su questo sono perfettamente convinto di quello che abbiamo fatto. Io credo che se un cittadino chiede di poter utilizzare una parte di suolo pubblico, ripeto, di suolo pubblico, quantomeno debba pagare questo uso che ne fa. D'altra parte il passo carrabile è quello, si chiede che una parte del suolo pubblico ne venga fatto un uso personale. Per cui pagare 100 euro l'anno credo che sia veramente una cosa giusta. Guarda, io per i provvedimenti dell'aumento dell'occupazione del suolo pubblico in via generale è condivisibile, però non è stata fatta questa scelta. Cioè è stato aumentato indiscriminatamente chi occupa il suolo pubblico per svolgere un'attività commerciale e quindi avere un utile con quello che invece lo ha per un'esigenza familiare, come poter entrare a casa visto che spesso le macchine occupano degli ingressi. Per cui bisognava fare una selezione a un aumento giusto a chi svolga un'attività commerciale che è un utile ma non aumentare a chi in realtà ne ha bisogno per una utilità familiare. Per quanto riguarda invece la tariffa sugli impianti sportivi? Ma anche qui questa tariffa non veniva ritoccata da tanti anni. Siamo assolutamente al di sotto di quella che è la media regionale e abbiamo aumentato soltanto quegli impianti di livello. Per esempio la palestra San Gabriele che ci rendiamo conto ha delle difficoltà non abbiamo ritoccato la tariffa. Un aumento che sia necessario per mantenere l'attività? Ok, un aumento che vada oltre questo non è condivisibile perché anzi noi dovremmo incrementare le attività sportive, soprattutto quelle amatoriali, perché Teramo è un grosso problema con la parte giovanile, cioè non accendi l'aggregazione giovanile e la necessità di svolgere e cominciare a fare una reale politica verso il giovane. E lo sport fra giovani ed anziani unisce e aiuta a crescere. Per quanto concerne il patto di stabilità, il comune di Teramo dovrà migliorare il saldo per l'anno 2007 del 97%, riuscirà a risparmiare oltre 5 milioni di euro secondo lei? Ma guardi, quello del patto di stabilità è una cosa che assolutamente credo che va rivista ma anche in tal senso c'è una grande discussione a livello nazionale, basta leggere i giornali perché credo che il patto di stabilità è una mannaia sopra la testa delle amministrazioni comunali che così non può più essere. Va rivista perché io sono d'accordo sul patto di stabilità ma se un comune è virtuoso, se un comune ha dimostrato di sapere amministrare deve avere la possibilità di poter spendere le proprie risorse. Noi siamo uno di quelli, un comune che si trova in questa situazione quindi per qualsiasi comune diventa difficile. Noi cercheremo di rimanere all'interno del patto di stabilità ma spero che il governo voglia rivedere la legge al più presto perché la legge così come è strutturata mette davvero in difficoltà le amministrazioni comunali tutte, anche quelle più virtuose. Guarda, io direi che il comune di Teramo ha sempre fatto una politica che è stata dettata dal privato e da tempo che noi diciamo che c'è una grande speculazione a Teramo che viene fatta anche attraverso l'utilizzo di attività e di fondi pubblici ora vorremmo dire che o si fa una politica equilibrata o è difficile riuscire a fare delle buone opere per la città necessarie e importanti non superando il patto di stabilità.